Allora, riscriviamo 3 quarti più 1 settimo per, apro la quadra, 5 sesti più 3 quarti, il denominatore comune è 12, 12 diviso 6 fa 2, 2 per 5 è 10, 12 diviso 4 fa 3 per 3 è 9, quindi 10 più 9 è 19. Riduciamo la dimensione della gomma, allora, 10 più 9 è 19. Per, allora, il denominatore comune tra 1 e 19 è 19, ovviamente non parlo dell'1 qua sopra, ma di quello che non c'è scritto al denominatore. 19 diviso 1, 19 per 1, 19, più 19 diviso 19 è 1, per 5 è 5, quindi 19 più 5 fa 24, perciò scrivo 24 diciannovesimi. Poi, posso riscrivere, meno 5 sedicesimi per 8 quinti. Il denominatore comune tra 5 e 15 è 15, 15 diviso 5 è 3, 3 per 2 è 6, più 8. 6 più 8 ottengo 14, quindi sostituisco il 14 e adesso posso occuparmi delle moltiplicazioni all'interno della parentesi quadra. Riscrivo 3 quarti più 1 settimo per, aperta quadra, 19 dodicesimi per 24 diciannovesimi. Allora, 19 e 19 si semplificano, 12 e 24 si semplificano, quindi diventa 1 per 2 al numeratore che fa 2 fratto 1, quindi lasciamo solo 2, meno 5 e 5 si possono semplificare tra loro, diventano 1 e 1, 16 e 8 si possono semplificare per 8, quindi diventa 16 diventa 2 e 8 diventa 1, quindi 1 per 1 è 1 e 2 per 1 è 2, quindi 2 meno un mezzo. Chiudo, chiudo la quadra per 14 quindicesimi. Ora, riscrivo 3 quarti più 1 settimo e ora posso finalmente sbarazzarmi della parentesi quadra, infatti il denominatore comune sarà 2, 2 diviso 1, 2 per 2 è 4, 4 meno 1 è 3, quindi 3 mezzi per 14 quindicesimi. Qui ho una serie di moltiplicazioni di cui devo occuparmi prima di poter fare l'addizione. Allora, un settimo per 3 mezzi non posso semplificare, né l'1 col 2 né il 7 col 3, quindi faccio semplicemente la moltiplicazione, 3 per 1 è 3 e 7 per 2 è 14. Poi, vado a risolvere 3 quattordicesimi per 14 quindicesimi. 3 e 15 si possono semplificare per 3, quindi diventano 1 e 5, 14 e 14 si semplificano per 14, quindi 1 e 1. Allora, otteniamo 3 quarti, 1 per 1 fa 1 e 1 per 5 fa 5. Il denominatore comune è 20, 20 diviso 4 è 5, 5 per 3 è 15, 20 diviso 5 è 4, per 1 è 4. Il risultato è 19 ventesimi.